Bene, oggi se ne va Wolfenstein, che è venuto un caro amico, Manuel, oggi a prenderli. Buongiorno. Wolfenstein se ne va, questo non so neanche se l'ho giocato, è molto vecchio. Il CD è in ordine, il CD è tutto a posto. Il CD è tutto a posto, però non si tira su. E qua. No. Ok. Qua. CD è a posto, nuovo. Il codice c'è dentro. E... A posto. Questo qua non so neanche se l'ho giocato tantissimo tempo fa. Storico. Adesso volevo vedere l'anno di produzione, non lo vedo, ma ci dovrebbe essere scritto. 2001 qui, mi dice. Questo qua è il Wolfenstein 2001. Questo anche non l'ho giocato, Commandos 2. Sempre isometrico, è isometrico, sì, dall'alto. Non mi ricordo chi è che l'ha fatto. Questo ha la EDIOS. Anche questo è in ordine. A questo c'è diversi dischi, poi, tra l'altro. Ce ne ha tre. Orca miseria. Disco 2. Disco 1. E disco 3. Sì, tre dischi. Questo non mi ricordavo neanche. Il suo manualino. È tenuto in ordine. In italiano. Ma di questo gioco proprio non me lo ricordo. Magari qualcuno nei commenti può ricordarmelo. Perché questo qui proprio non l'ho giocato. Non l'ho giocato e non me lo ricordo. Sì, vagamente, vagamente. Qualcosa non mi ricordo, ma non mi ricordo di averlo giocato. Questo. E poi Fallout 3, questo è storico, lo conoscono tutti. Sono due dischi. Game for Wind of Life che a me non è mai piaciuto. Il manuale è in ordine, è tenuto bene. In italiano. E quello piace almeno. Questo piace, sì, sì, sì. Questo piace. Tu questo l'hai giocato? Sì, è un best seller. Questo l'hai giocato, sì. Eccezionale, eccezionale questo qua. Però appunto Game for Wind of, c'è sempre quella, tipo quello Steam da installare. Speriamo che questo qua non abbia bisogno. No, non so, market. Esatto. Come si chiama? Casi. Insomma, come si chiama? Come si chiama? Un store, esatto. Non mi viene il termine. Per me ne sono un po' di tempo che non... Bene, anche questi qua se ne vanno e pian piano vi farò vedere anche gli altri che ho lì. Grazie. Grazie Manuel. Ciao ragazzi. A questo punto ciao. Ho detto buongiorno. Ottimo. Ah, caspita.